Allora, papà nel film? Sono uno dei papà, sì, sono uno dei papà separati del film. Che tipo? Sono un ex critico cinematografico che è stato relegato a occuparsi di gossip e si trova a convivere con questi altri tre disgraziati che sono Carlo Verdone nel ruolo di Ulisse Diamanti e invece Marco Giallini nel ruolo di Domenico Segato e condividiamo, pur essendo molto molto diversi, un appartamento in una maniera assolutamente tragica e tutti quanti abbiamo problemi con le nostre famiglie, con le nostre mogli e poi vediamo come andiamo a finire. Ma è vero che dovevate continuare a interrompere le riprese perché vi veniva troppo da ridere? No, avremmo dovuto continuare a girarle, invece il problema è che non ce la facevamo per cui in alcuni casi Carlo facevano, beh però basta, adesso basta, piglio, no! e stessa con San Marco, beh poi è il primo lui a ridere veramente. Senti, è la prima volta che hai sentito Carlo per il progetto del film, telefonata? No, no, ci siamo incontrati, non mi ricordo neanche bene come, dove, però era una situazione che non era particolarmente formale, mi ha detto dobbiamo parlare, ho detto, ho fatto qualche cosa di male, poi ha detto, no, dobbiamo parlare, mi piacerebbe che parlassimo, ho gongolato e ho detto, beh, molto volentino. Perché tu hai sempre, sei cresciuto con i film di Carlo. Io passavo, i miei anni erano da quando usciva i film di Carlo a quando usciva quello dopo, per cui passavamo a scuola il tempo a ripeterci le battute dei film di Carlo Verdone da quando non usciva niente dopo. Senti una cosa, le telefonate che adesso vi fate tu e Carlo, fammela una, visto che tu sei anche... figlio, oh Carlo, come stai? No, sta bene, sta bene. Sicuro, sì, ma quella cosa alla schiena è passata, sì, sì, anzi no, Carlo, grazie per quella cosa che mi hai detto, ma hai preso quella cosa che ti ho detto, sì, perché è uscito un'altra cosa, buona anche qui. No, no, quella lascialo per il colletto, ma cosa che non mi è piaciuta, la pressione della sei misurata, questo che Carlo, me l'hai misurata tu l'ultima volta, è vero, è vero, tutto apposta, sì. Allora, parliamo del film, e là inizio a parlare. Senti una cosa, è vero che certe volte gli rispondi già tu da Carlo Verdone? E cioè, pronto, tu come sai, sai bene, ma sei sicuro, va bene, a posto, va bene, va bene. Grazie, grazie molto.